Lo hanno chiamato di un paese lontano, anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio, se mi sbaglio mi corrigerete. Con la mente ritorno a quel giorno, quando eletto per Papa fu un santo, tanti giorni ormai son passati, tanti viaggi ha compiuto nel mondo, la sua terra straniera e lontana, gli mancava però non soffriva, si compiva il disegno divino di un sant'uomo che fu pellegrino. Ha conquistato potenti e regnanti, ha aperto le porte del cuore più stanchi, ed il suo sguardo ha streghiato e incantato, gente diversa di ogni colore, in cerca d'amore. Come nome ha scelto Giovanni, dopo Paolo ha voluto secondo, ha portato la pace nel mondo, tanta gioia e speranza nei cuori. Ha seguito l'esempio di Cristo, perdonando a chi gli ha sparato, ora in cielo e sorride beato, ecco gli angeli accanto a Gesù. Il suo accento era polacco, ma parlava la lingua del cuore, ai fratelli lontani e vicini, sparsi in tutte le terre del mondo. Ha benedetto e poi consarrato, quell'umile frate con nome di Pio, bello e ha pregato e lo ha ringraziato, perché gli ha concesso nel nome di Dio, quanto richiesto. Si è recato in terra di Francia, ha donato alla Vergine Santa, il proiettile che lo ha ferito, ringraziando di averlo salvato. Tanta gente ha pregato per lui, quando era vicino alla morte, ora in cielo e sorride beato, ecco gli angeli accanto a Gesù. E fra gli angeli accanto a Gesù, il suo posto è accanto a Gesù.